X-Work X-Work Iscrivetevi se non l'avete ancora fatto per non perdervi altri contenuti simili e io direi di iniziare. Dunque, la prima parte del servizio è semplicemente un riassunto delle controversie di cui si è resa protagonista Maria Sofia, quindi l'aprire OnlyFans da appena 18enne, entrare alla Seafreddy Academy giusto qualche mese più tardi e tutti gli altri episodi come i suoi genitori intervistati alla zanzara. Andiamo alla parte interessante però. Maria Sofia ha deciso di aprire OnlyFans il giorno esatto del compimento dei suoi 18 anni, segno che la cosa era premeditata da ben prima e quel che ha fatto è stato dire ai suoi genitori datemi la carta d'identità, devo fare delle fotocopie per l'università. Quindi è stato proprio un inganno inizialmente, loro non erano completamente al corrente. Che ti hanno detto? Che io potrò fare solamente i bo*****ni e non potrò cambiare il mondo. Beh effettivamente i bo*****ni li ha fatti, però ragazzi, oggi non bisogna avere pregiudizi, io mi metterò a braccia concerte senza giudicare e se tra 10 o 15 anni il mondo sarà effettivamente cambiato per mano di Maria Sofia e il suo utilizzo creativo di qualche sua parte del corpo, sarò ben felice di dire ho sbagliato a giudicarti, sai fare i bo*****ni e anche salvare il mondo. Ah, mentre aspettiamo vi vorrei far vedere anche quelle che sono evidentemente le prime fasi del cambiamento del mondo da parte sua in questo screenshot qui. Probabilmente il mutamento del mondo è già iniziato ma noi non lo sappiamo. Comunque io avevo una mezza idea del fatto che Maria Sofia non fosse una persona molto tollerante nei confronti di chi la pensa diversamente da lei, ma questo video me ne dà la conferma perché questa è la sua reazione nel momento in cui i suoi genitori sono andati contro la sua decisione di andare alla Seafreddy Academy. Piccola parentesi, i genitori sono molto credenti. Eravamo in cucina, a tavola, cominciò a bestemmiare. Penso che 30 volte, 30, 40, e urlava e bestemmiavo. Eh sì, è andata così. Io sono una persona che non è credente, ma proprio per nulla. Eppure quel che non si dovrebbe mai fare è andare da dei ferventi cristiani a bestemmiargli in faccia. Non è perché per me Dio non esiste, allora devo travalicare i confini di quello che alla gente potrebbe dar fastidio. È molto, molto grave imporsi in questo modo sugli altri, soprattutto i propri genitori. È maleducato e irrispettoso, soprattutto se sia una persona che lotta per cose come la tolleranza e l'accettazione della diversità. Poi c'è questa parte del servizio nella quale il padre racconta di averla messa di peso sul letto per farla calmare perché continuava a bestemmiare e a urlargli contro. E lei per tutta la risposta ha detto tipo... Quando arrivi a buttarmi sul letto, è chiaro che io credo che ci sia una frustrazione profonda che poi lui riversa su di me. Ha detto tu mi stai facendo violenza. Io non riesco a non pensare al meme, è una microaggressione questa, impossibile smettere di pensarci. Ora, è ovvio che prendere di peso tua figlia di 18 anni per farla calmare sia una manovra un po' estrema per gli occhi di qualcuno ma mi stai facendo violenza è una cosa molto grave, mi sembra. Non so se avete presente quella scena di 1984 nella quale il protagonista Winston descrive il fatto che i bambini siano le spie più pericolose del grande fratello perché sono così plagiati dalla propaganda del partito da denunciare i propri genitori al minimo accenno di comportamenti vagamente sovversivi. Non so, mi ha ricordato quella scena e non è un'associazione positiva secondo me. Ha comunque menzione speciale per questa parte della puntata che secondo me vale tutto il video. Secondo te tu papà non ha la mente abbastanza aperta? Beh, vedendo il portachiavi che ha direi proprio di sì. Sto male, ma perché sempre di guardare un film di Tim Burton? Scavare sempre di più nell'iceberg di Maria Sofia e la sua famiglia non è stata una buonissima idea per la mia sanità mentale. È incredibile, più si scava e più si trova qualcosa. Fino al giorno nel quale uno scrittore talentuoso si offrirà di scrivere una biografia e allora avremo penso il secondo testo più importante mai prodotto dalla nostra specie dopo In Cucina con Ciccio. Adesso le Iene decidono di invitare Eva Enger, Sara Tomasi e Luce Caponegro e qui arriva il momento migliore della trasmissione, quello nella quale il mitico mondo della carriera di Maria Sofia viene distrutto davanti ai suoi occhi da gente molto più esperta e navigata di lei. Le tre attrici non solo raccontano di aver perso il saluto dei propri genitori, ma anche controversie molto pesanti, come il fatto di aver girato molte scene da incoscienti, perché per sopportare quella vita e le cose che dovevano fare l'unica era estraniarsi mediante l'utilizzo di sostanze. Questa ha portato ad esempio la Tomasi ad avere una dipendenza che l'è durata anni, anni e anni, da cui è uscita per il rotto della Cuntirti soggetto, con la S, non senza S, con la S, soggetto. Perché ti sei sentito oggetto? E tutti i 29 reels che io ho fatto su Instagram in cui mi vantavo di essere un soggetto e non un oggetto? Ma non sarà forse, come si dice, una roba inventata per giustificare la carriera che voleva intraprendere Maria Sofia? E niente, è andata così. Per carità, c'è una lancia che spezza a favore di queste tre. Innanzitutto stanno facendo in 20 secondi di servizio più effettiva e reale informazione di quella che Maria Sofia ha fatto negli ultimi tipo sei mesi. Inoltre sono abbastanza triste per il fatto che tuttora la gente le offenda sui social. Proprio loro che alla fine hanno regalato così tanti momenti di gioia a uomini soli. Secondo me è ingiusto soffrire del servizio e poi trattarle male. Ringraziate invece, ragazzi, non fate gli animali. Comunque, il servizio si conclude con due scambi di battute tra Maria Sofia e i suoi genitori. È un abbraccio finale, dal quale però vorrei estrapolare giusto un frame zoomando sulla faccia di lei. Riconciliazione, due punti, avvenuta con successo. Non credo che lei sia una persona che ascolta molto le influenze esterne una volta che le ha bollate come diverse dalle sue. Quindi non saranno le parole a farle cambiare idea. Secondo me, infatti, ormai il dado e tratto farà la sua carriera nel meraviglioso mondo della strumentalizzazione. Ad una certa bisogna anche capire che il miglior modo di far rendere conto una persona molto egocentrica di aver imboccato una strada degradante è semplicemente stare fermi e aspettare. Magari un giorno avremo macchine volanti e mezzi a energia pulita e diremo è tutto merito di Maria Sofia e il suo OnlyFans. Oppure, molto più semplicemente, si renderà conto che consumare sostanze pur di sopportare quel che le faranno fare magari non è una delle cose più efficaci per cambiare il mondo. Ma io sono solo un ragazzo con un microfono comprato a 20€ con il Black Friday. Non prevedo certo il futuro. Volete altri contenuti simili? Mi raccomando, like e iscrizione al volo e io adesso mi sa che andrò a fare qualcosa della mia vita, tipo boh, studiare per creare un futuro stabile, credo. E noi ci vediamo alla prossima. Non possiamo ma e questo papà.